Quello che noi sappiamo è che dall'inizio dell'anno c'è stato un forte rallentamento della crescita economica. Alla fine dell'anno scorso il tasso di crescita del PIL era intorno al 4% anche di più e nei primi mesi di quest'anno è già sceso abbondantemente sotto il 2%. Siamo intorno a un punto e mezzo. Ancora non abbiamo le stime in secondo trimestre, neanche quelle preliminari, ma insomma la gran parte degli analisti si aspettano dei risultati più o meno in linea, intorno al 2%. E così per il resto di quest'anno. Quindi è chiaro che l'economia quest'anno sta crescendo a dei tassi sensibilmente inferiore di quello dell'anno precedente. Grazie. Grazie.